Eccoci, buonasera. Scusate il leggero ritardo, ma stiamo cercando di recuperare un po' rispetto all'inizio, ci siamo stati anche bravi a farlo un po'. Chiudiamo questo ciclo di incontri a Palazzo della Ragione andando a parlare ovviamente di cambiamento climatico da un punto di vista scientifico, insomma di modelli climatici che vengono realizzati, affinati per cercare di comprendere appunto quale sarà l'evoluzione dal punto di vista del clima del nostro pianeta, ma ancora più importante cercare di capire quali sono le iniziative anche politiche, economiche, di indirizzo che bisogna prendere per far sì che poi questi modelli possono essere anche funzionali, perché ci dicono come le cose andranno, gli scenari sappiamo tutti che sono comunque anche preoccupanti e quindi bisogna prendere delle decisioni coraggiose e il tempo, diciamo, non ce n'è di tempo. Viviamo anche un momento estremamente importante perché la crisi che abbiamo vissuto, la crisi sanitaria che abbiamo vissuto ha portato anche a un cambiamento in Europa, nel senso all'necessità di investire, dei fondi importanti per la ripresa, ecco, come utilizzarli diventa piuttosto significativo. Per farlo abbiamo due ospiti, uno, vedete qui già presente con me, è Antonello Provenzale, climatologo e direttore dell'Istituto di Geoscienza e Georisorse, con lui parliamo nello specifico di modelli climatici, e Enrico Giovannini in collegamento, buonasera professore, che è professore di statistica a Roma Torvergata, all'Università di Roma Torvergata, docente di sviluppo sostenibile all'UIS, ma principalmente in questo momento per noi anche il cofondatore e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L'ASVIS, che è un ente che emette una rete di oltre 240 soggetti della società civile che è creata in Italia per attuare l'agenda 2030 delle Nazioni Unite, che in queste settimane sta dando vita a un importante festival dal 22 settembre fino all'8 ottobre, che vi invito di seguire sul loro sito, proprio per cercare di costruire un futuro sostenibile, ed è un festival con il quale il Food and Science è felice di collaborare. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Io inizierei da lei perché so che ha anche degli impegni e quindi a un certo punto ci deve lasciare. Abbiamo parlato ovviamente di grande importanza, un momento delicato, perché in Europa vediamo che c'è stata una volontà, si è manifestata la volontà di investire pesantemente nella ripresa, però ora la vera sfida è capire come investire questi fondi. Ricordo che il Recovery Fund per l'Italia stanzia, se non erro, 209 miliardi. Quindi a che punto siamo? Qual è la linea di indirizzo? Grazie veramente per l'invito e appunto mi scuso se a causa del ritardo con cui stiamo iniziando, poi dovrò lasciarvi. Mi dispiace perché avrei ascoltato volentieri l'altra relazione che mi ha fatto venire in mente, guardando un po' appunto l'uso dei modelli per le previsioni climatiche, quello che si dice degli economisti, si è detto per tanti anni degli economisti. Se tu pensi che sia possibile una crescita economica infinita, devi essere o stupido o un economista. Se pensi che il cambiamento climatico non sia in atto, devi essere uno stupido o uno stupido, direi. Non mi sembra che ci sia molta alternativa. Poi possiamo discutere tantissimo sul fatto che questo non è solo opera dell'uomo, ma certamente è anche opera dell'uomo. Il punto cruciale è che per fortuna l'Unione Europea si sta dimostrando non stupida, anche se dobbiamo riconoscere che tutto il mondo ha un ritardo. Diciamo 50 anni, tanto per darci un'idea. Lo dico perché io al secondo anno di università ho deciso di fare l'economista leggendo proprio i libri che facevano riferimento, per esempio al rapporto del Club di Roma, su il rischio di un collasso globale intorno agli anni 2020-2030. E siamo purtroppo sulle traiettonie di alcuni degli scenari fatti all'epoca. Veniamo alla domanda che lei mi ha fatto. È un'Europa che ha preso la decisione giusta, ma non tanto e non solo con il cosiddetto recovery fund, che io ripeto ogni volta non esiste, perché si chiama Next Generation EU. Ed è un cambiamento di nome significativo rispetto alla prima versione della proposta della Commissione, che infatti chiamava questa iniziativa recovery semplicemente. Quello che esiste è tra l'altro un fondo per la ripresa e la resilienza. E il fatto di evitare di parlare di questo nome, questo secondo termine, resilienza, è un grave errore, lo dirò tra qualche minuto, proprio per i temi che stiamo dibattendo. Dicevo, l'Europa ha preso questa decisione importante e a questo punto però aspetta ai paesi realizzarla, sapendo che il 37% delle spese di quei 209 miliardi devono andare alla lotta al cambiamento climatico. Devono, non possono. In più ci sono molti altri fondi e soprattutto la Commissione chiede una coerenza tra spese a valere sui fondi europei e spese sui fondi nazionali, per cui sarò curioso di vedere come il Governo giustificherà circa 80 miliardi di investimenti sul Next Generation EU a favore della lotta al cambiamento climatico e continuerà a spendere 19 miliardi all'anno di sussidi dannosi per l'ambiente. Io credo che qualcuno in Europa dirà, scusate, fate pace col cervello, per usare una battuta classica dei più giovani. Io vorrei approfittare, vorrei restare su questo tema. Lei anche in alcune recenti interviste ha detto che è necessario un piano per la ripresa, ma ha sottolineato l'importanza della parola resilienza. Allora, le voglio chiedere due cose. La prima è che cosa significa nella pratica, cioè quali sono, visto che voi tra poco presenterete un nuovo rapporto come ASVIS, quali sono le azioni concrete che chiedete di attuare, quali sono le azioni da intraprendere. E la seconda cosa che le chiedo, che è collegata a questa domanda, è l'8 ottobre, la conclusione, la giornata in cui si concluderà il Festival per lo sviluppo sostenibile, ad ascoltarla ci sarà il Presidente Conte. Ecco, non voglio che mi dica che cosa le dirà, però magari qualche anticipazione ci piacerebbe averla. Guardi, io batto molto sulla questione della resilienza, e la resilienza cosiddetta trasformativa, perché è qualcosa che deve caratterizzare il nostro modo di spendere quei fondi e in generale di pensare. Quattro anni fa facevo il consulente del gabinetto del Presidente della Commissione, Juncker, e a un certo punto il capo di gabinetto mi fece dire che la dovevo smettere di parlare dell'agenda 2030 e di questa cosa della resilienza, perché non ci sarebbe mai stato modo per l'Europa né di adottare l'agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, né di spiegare ai cittadini che il futuro sarebbe stato pieno di shock. E dunque le politiche dovevano costruire resilienza a quegli shock. Dopo quattro anni, per esempio per usare una battuta, due a zero parla al centro, ma il punto cruciale qual è? Parliamo di una resilienza trasformativa, che poi è la resilienza che tipicamente ci insegna anche la natura. La resilienza è la capacità di reagire a uno shock. Io prendo una bottiglia con l'acqua, la schiaccio, quella si comprime un po', smetto di schiacciare, quella torna dove era. Ma noi veramente vogliamo tornare a dicembre del 2019? Quando avevamo oltre due milioni di giovani che non studiavano e non lavoravano, la distruzione di vari ecosistemi, un consumo di suolo che continuava in modo terribile, 80 mila morti all'anno per malattie legate all'inquinamento, e potrei continuare? La risposta è no. Tu vuoi tornare a dove eri soltanto se eri su un sentiero di sviluppo sostenibile. Se non eri su un tale sentiero, devi usare la ripresa per rimbalzare avanti, non rimbalzare indietro. Ecco, questa impostazione è stata adottata dalla Commissione europea, dall'Unione europea, e il rapporto di due settimane fa su questi temi chiarisce che la Commissione ha sposato questa impostazione che abbiamo sviluppato poi con il Joint Research Center della Commissione europea. Perché è così importante? Perché, come dimostrano le linee guida della Commissione, ci viene chiesto come i soldi che spenderemo aiuteranno i nostri sistemi socio-economici a reagire ai futuri shock. Perché ormai la Commissione ha assunto l'ipotesi che il futuro sarà pieno di shock, a partire dello shock climatico. E quindi dobbiamo prepararci. Perché, e questo è il messaggio subliminale politico, non è che al prossimo shock ci richiedete i soldi, vero? Perché i leader europei hanno detto che questa cosa del recovery resilience facility vale una tantum, non è che da adesso in poi si fa così. Quindi, se noi non usiamo questi fondi per irrobustire la nostra economia e il nostro sistema sociale per fronteggiare i prossimi shock, non va bene. L'esempio che lei mi chiede, va bene investire nella scuola, ma non è quello che crea resilienza nei prossimi tre anni. Quello che crea resilienza nei prossimi tre anni di tipo sociale è l'investimento nella formazione degli adulti. Perché se facciamo la transizione ecologica, come tutti speriamo, ci saranno un sacco di posti di lavoro che si perderanno e dovranno essere convertiti in posti di lavoro, per esempio, nell'economia circolare, nell'agricoltura di precisione, eccetera, eccetera. E quindi bisogna formare le persone già adulte a questi cambiamenti, non solo i giovani. Avrei un'ultima domanda, dato che mancano pochi minuti all'orario che ha un altro impegno e quindi deve andare. Però lei gioca su un terreno estremamente difficile, nel senso che personalmente trovo tutto estremamente, condivisibile. Però poi, quando andiamo a vedere il mondo della finanza e dell'economia neoliberista, che è il contesto, il paradigma all'interno del quale ci muoviamo da un punto di vista economico, da un lato, e se vedo poi invece una politica che è molto più basata, è molto più schiacciata sul consenso immediato, quindi su periodi molto brevi, un po' come i modelli climatici, cioè ci interessa oggi e domani, ma poi dopo domani non importa, ci penseremo. Ecco, il rischio non è quello di perdere un'occasione come è già successo con la crisi del 2008-2009. Guardi, io credo che siamo invece in una situazione molto diversa. E come faremo vedere anche nel rapporto della prossima settimana, proprio dalla finanza vengono segnali straordinariamente positivi. Ma d'altra parte, se lei dovesse investire i suoi soldi, anche alla luce degli ultimi mesi, li investirebbe in una impresa che produce SUV superinquinanti o in una impresa che produce monopattine elettrici e biciclette con la pedalata assistita? Faccio questo esempio eclatante perché questa crisi ha aumentato la percezione del rischio complessivo in cui noi operiamo. E dunque la finanza sta scegliendo proprio quelle imprese che non presentano rischi aggiuntivi, cioè quelle di essere in business ormai sulla via del tramonto. E questo sta avvenendo non solo in Europa, ma soprattutto in Europa e anche in Italia. D'altra parte, l'indagine dell'Istat di maggio, quindi subito dopo la chiusura del lockdown, indicava chiaramente che la quota che tra le imprese che erano già in una fase di ripartenza, programmazione strategica del futuro, circa il 30% delle imprese, quel 30% nelle imprese che avevano scelto la sostenibilità prima della crisi era del 40%. E c'è uno spostamento anche nelle scelte dei consumatori. Quindi io non sono particolarmente ottimista o ciecamente ottimista, però le posso dire che quello che sto osservando è stato anche attraverso il festival. Quest'anno, nonostante le difficoltà, abbiamo 800 eventi organizzati in tutta Italia. Nella prima settimana del festival i vari eventi hanno avuto un milione di visualizzazioni. Sono segnali interessanti e importanti del fatto che la società italiana ha fatto clic, diciamo così, perché con la pandemia abbiamo capito, come dice il Papa, che non possiamo essere sani in un pianeta malato e che i problemi ambientali sono strettamente connessi a quelli economici e a quelli sociali. Vuol dire che va tutto bene? Naturalmente no, come ho detto siamo terribilmente in ritardo, ma credo che forse questo 2020 verrà ricordato anche per una non linearità positiva, almeno questo è quello su cui dobbiamo lavorare e quindi eventi come questo che avete organizzato voi aiutano a far capire che abbiamo bisogno di un approccio sistemico. Non è vero che viene prima l'economia, poi l'ambiente, la società, tutto è parte di un sistema. Ecco, credo che questa sia una delle lezioni principali che tantissime persone stanno capendo e quindi domandano politiche sistemiche. Adesso vedremo se la politica da un lato, le imprese e noi stessi, cittadini e società civile, saremo in grado di cambiare le scelte finora fatte, comprese quelle scomode. La ringrazio, professore, per il suo contributo e il suo tempo. Può sentire l'applauso della sala che non so se la può vedere o no. Buon festival, attendiamo il rapporto dell'8 ottobre e di nuovo. Arrivederci, buonasera. A presto, arrivederci. Bene, torniamo a parlare invece più strettamente di scienza con il professor Provenzale. Abbiamo detto, sembra l'anno buono, secondo il professor Volentini. Però, insomma, poi i tuoi modelli, ecco, che cosa raccontano invece sul breve termine? Vediamo un attimo. Dovevo sentire? Allora, il punto di fondo è che non si può negare non si può negare il fatto che ci sia un cambiamento climatico in atto. In parte dovuto a cause naturali, in parte dovuto essenzialmente all'immissione di grandi quantità di gas serra. Il punto di fondo, però, è che questo cambiamento climatico non è omogeneo, né nello spazio, né nel tempo. Allora, ci sono due slide sui dati. Quello che dico si basa sui dati, cioè quando diciamo che c'è un cambiamento climatico in atto è perché i dati mostrano quello, non i modelli. I modelli poi ci arriviamo fra un momento e ci aiutano a prevedere il futuro, ma sono i dati che lo mostrano. Queste invece le mappe che vedete sotto sono le temperature sopra, le precipitazioni sotto, in estate a destra e in inverno a sinistra, degli ultimi 30 anni, 81-2010, quindi diciamo quasi gli ultimi 30 anni, meno il 51-80. Quello che vedete, più è rosso, più è aumentata la temperatura e ci sono alcune regioni dove le temperature sono aumentate molto di più che in altre regioni. Sono chiamati hotspot climatici. oppure dove le precipitazioni sono cambiate. Vedete, in basso, la precipitazione globale sulla Terra non è che piove di più o piove di meno. Più o meno, c'è una forte variabilità da un anno all'altro, però ci sono dei grossi cambiamenti. Guardiamo in Europa, per esempio, c'è una maggiore precipitazione, soprattutto invernale, in Europa del Nord e una forte tendenza invece alle minori precipitazioni, alle siccità in Europa Mediterranea e nel Mediterraneo in generale. anche in Nord Africa. E poi ci sono altre regioni dove ci sono parecchie cose interessanti, ma rimaniamo nelle nostre zone. Quindi sulla precipitazione insisto molto, perché è quello che interessa di più da un punto di vista anche di produzione agricola, di uso delle risorse idriche e di impatti dei cambiamenti climatici. In particolare, nella regione mediterranea, ci aspettiamo un aumento di eventi estremi, sia di eventi di precipitazione intensa. Ho appena aggiunto, qui sulla destra in basso, la foto del ponte di Romagnano-Sesia che è crollato quattro ore fa, più o meno. Allora, oppure evidenze di cicloni simili tropicali, l'immagine sotto. Non è che un'alluvione singola sia un segno di cambiamento climatico, non è che possiamo dire piove, c'è il cambiamento climatico, fa freddo, c'è il cambiamento climatico, fa caldo, c'è il cambiamento climatico. È la frequenza di questi eventi. E poi la controparte invece è le siccità soprattutto estive in Mediterraneo. Qui in mezzo c'è il grafico del 2003. Il 2003 è rappresentato in queste distribuzioni. Ciascuna lineetta verticale rappresenta un anno e il rosso è il 2003. Quindi vedete come era fuori da ogni statistica precedente. Certo, se andiamo a vedere 60 milioni di anni fa, era molto più caldo di oggi, però 60 milioni di anni fa diciamo c'erano altre bestie, non c'erano gli umani, quindi non interessa questo. Mentre invece appunto in anni come il 2003 che possono diventare via via più probabili, più frequenti, ci sono stati danni molto grandi all'agricoltura. Analogamente tutto questo ha un effetto importante sulle risorse idriche sotterranee. Lì in basso a sinistra vedete un'immagine. Perché le falde acquifere sono ciò che danno sostanzialmente la maggior parte dell'acqua utilizzata in agricoltura è utilizzata anche per usi potabili. E quindi lo studiare l'effetto dei cambiamenti climatici sulle falde e sulla gestione quindi delle falde, perché poi alla fine è sempre la gestione, vogliamo arrivare, è relativamente recente. Per sgombrare il campo da ogni malinteso, 60 milioni di anni fa il pianeta era molto più caldo, ma molto più caldo, era tipo 10-15 gradi più di oggi. 600 milioni di anni fa il pianeta era coperto di ghiacci. Quindi il pianeta non è in pericolo, assolutamente. potrebbe diventare 10-15 gradi più caldo e senza problemi. Quello che è in pericolo è la nostra sopravvivenza come società avanzata, con infrastrutture fisse sulle coste. Se il mare si alza di 10 metri, perdiamo tantissime città costiere, tantissime industrie costiere. Quindi stiamo parlando di quello che può succedere agli umani. Allora, i dati ci dicono certe cose, però noi poi abbiamo bisogno di prevedere il futuro. Come facciamo a prevedere il futuro? Che è sempre un'operazione abbastanza complicata e abbastanza rischiosa. E utilizziamo essenzialmente dei modelli climatici che sono delle rappresentazioni numeriche nel calcolatore delle equazioni che regolano il movimento dei fluidi dell'atmosfera, dell'oceano. Queste equazioni sono complicate, però le conosciamo. Però i modelli climatici dentro hanno anche le foreste. Ora nessuno conosce le equazioni delle foreste, quindi ce le inventiamo un pochino. Quindi questo ci porta a dire che i modelli climatici, qualunque modello, è sbagliato, perché è una metafora della realtà. Però sono gli unici strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi vanno presi con buon senso, ma vanno utilizzati. Cioè vanno utilizzati per costruire, è un termine che va di moda negli ultimi tempi, un digital twin, cioè un gemello digitale del sistema che stiamo studiando, che sarà un gemello magari un po' poverino di quello vero. Però cerchiamo di utilizzarlo. Allora, c'è una grandissima differenza fra le previsioni meteorologiche e quelle climatiche. Meteorologiche usano gli stessi modelli, alla fine, più o meno. Ma quelle meteorologiche noi ogni giorno vediamo se abbiamo sbagliato. Cioè domani piove, no, fa sole. No, cosa ho sbagliato. Domani c'è vento, no, non c'è vento. E quindi abbiamo questa verifica. In un modello climatico si dica nel 2100 farà, beh, sì, possiamo verificarlo, ma ci mettiamo un po' di tempo. Quindi c'è una grossa differenza fra usare lo stesso modello per previsioni meteorologiche e per previsioni climatiche. Tipicamente, le previsioni climatiche, le proiezioni climatiche anche, sono statistiche, cioè non ci dice se pioverà il 17 agosto 2042 su Mantua, ma ci dirà se quel decennio sarà più piovoso o meno piovoso in Italia del Nord. Ecco, arriviamo a questo livello e già sarebbe essere contenti. Noi siamo abituati a vedere nel 2100 succederà, eccetera, che è un po', è molto interessante perché ci dice dove sta andando il clima, ma nello stesso tempo diceva, vabbè, il 2100 ci penseranno, no? In realtà c'è un'accelerazione molto forte del cambiamento e degli effetti del cambiamento e, oltre alle scale, diciamo, pluridecennali, sono emerse negli ultimi anni, 10-15 anni, altre due scale più importanti, secondo me, più difficili. La scala stagionale, da qualche mese alla stagione. L'estate prossima, sarà calda o fredda? Sarà secca o sarà siccitosa o umida? Attualmente non si riesce ancora a fare questo, ma il grande sforzo di tutti i centri meteoclimatici è proprio per dare delle previsioni stagionali utili per l'agricoltura, per la gestione delle risorse. E poi, ancora più difficile, la scala decennale. Devo costruire una diga? Devo costruire un invaso perché sarò senza acqua? Devo costruire un'industria lì o là? Ecco, la scala decennale è la scala della programmazione e questo è ancora più difficile da affrontare. È necessario considerare molti modelli diversi. I modelli climatici ce ne sono, diciamo, in tutta una decina, dieci, dodici, poi sono varianti, ci sono infinite varianti, ma sono dieci o dodici famiglie, diciamo così. E l'incertezza, cioè la scienza è caratterizzata dall'incertezza. Io non dico capiterà questo, dirò capiterà questo con una certa probabilità e nel tempo la mia incertezza, io parto da quel circolino verde un po' più scuro, supponiamo che sia la precipitazione in una certa zona e aumenterà la mia incertezza. Allora ho bisogno di avere tanti modelli per capire cosa mi dicono, cosa mi dice l'insieme di questi modelli per poter fare una statistica di quello che può succedere. Esempio. Faccio un passo indietro. i centri meteoclimatici tendono a prevedere temperatura, precipitazione, vento, cioè le variabili meteorologiche, atmosferiche. In realtà all'utente interessa molto di più l'effetto al suolo di queste variabili. Si ricaricano le falde oppure no? Ci sono incendi oppure no? Ci sono alluvioni oppure no? Allora questo è un esempio di un lavoro fatto per un gestore idrico che è di Torino in cui siamo andati a prendere diversi modelli climatici e a prevedere la ricarica delle falde acquifere che servono l'acquedotto della città metropolitana di Torino. Vedete quei cerchioletti? Ciascun cerchietto rappresenta un bacino, un bacino fluviale, torrentizio. E ci sono tanti settori. Ciascuno di questi settori è un modello climatico diverso. Allora vedete, non è che sono tutti in accordo. Se guardate vince il rosso. Quindi vuol dire che in questo caso vince una diminuzione della ricarica. Ma c'è una forte incertezza. Allora attenzione però a non cadere nei due estremi. Da una parte dire farà così. Io scienziato dico che farà così a modi profetico. L'altro è dire ebbè ma c'è incertezza quindi gli scienziati non sanno nulla. Non è vero né l'uno né l'altro. L'importante è quantificare l'incertezza e comunicare l'incertezza è una delle cose più difficili. Vedete, prima si parlava di scenari chi di voi segue un po' la questione di cambiamenti climatici CRCP 4.5 8.5 cioè più o meno questi sono sigle per dire quanta l'idride carbonica andiamo a mettere stiamo mettendo in atmosfera cosa che nessuno sa. In realtà se ne è state messe un po' meno ma perché c'è stata la pandemia non perché ci sia stata una buona volontà poi neanche tanto meno in realtà. Quindi anziché dare questi scenari si tende a preferire adesso un altro approccio. Io ho tanti modelli con tanti scenari dico cosa succede se la temperatura globale aumenta di un grado e mezzo cosa succede su momenti di due gradi cosa succede su momenti di tre gradi e vado a pescare da tutti i modelli che hanno fatto in tutto il mondo con tutti gli scenari cosa succede e quindi questo è un report molto importante dell'IPCC nell'ultimo paio d'anni su quali sono i rischi per vari sistemi a livello globale dai coralli alle mangrovie eccetera noi possiamo fare cose simili a livello regionale per esempio per il nord Italia la probabilità di durata di siccità estive per i grafici in alto sono due gradi quelli sotto sono tre gradi di global warming rispetto al preindustriale quindi diciamo circa un grado in più o due gradi in più rispetto a oggi SPEI e SPI sono due indici di siccità non uguali ma diciamo danno un'informazione analoga e quello che vedete ci si aspetta un aumento della durata delle siccità estive analogamente per gli incendi possiamo fare un lavoro analogo sugli incendi qui abbiamo cosa capita un grado e mezzo due o tre qui c'è la percentuale di area bruciata in più l'aumento di area bruciata in percentuale rispetto a quella attuale e quindi vedete che più è alto il riscaldamento maggiore cresce più grande maggiore è la percentuale di area bruciata importante qui c'è un punto importante poi abbiamo quasi finito fino negli ultimi trent'anni l'area bruciata in Europa Mediterranea salvo in alcune regioni interne del Portogallo e ahimè la Sicilia è diminuita non è aumentata è diminuita nonostante che sia aumentata la siccità questo perché sono aumentate le tecniche di prevenzione e controllo quindi il messaggio che uno deve portare via da questo non è dire ah pentitevi perché il mondo sta per finire brucieremo tutti oppure no non è questo è dire sappiamo cosa può succedere troviamo delle tecniche degli approcci che ci permettano di affrontare come è stato fatto per esempio per l'area bruciata dal punto di vista scientifico parliamo delle previsioni stagionali ad esempio è fondamentale passare dalla previsione di a pochi giorni che funziona relativamente bene alle previsioni dicevamo stagionali per gli incendi per esempio si sta cercando di fare siamo agli albori si usano gli output dei modelli dei centri meteoclimatici si attaccano dei modelli di incendio di risorse idriche di agricoltura per capire per dare una stima a cosa su cosa può succedere questo è l'ambito della climatologia operativa in cui l'Italia si sta muovendo soprattutto nell'ambito dei servizi Copernicus quelli europei legati alle immagini satellitari ed è proprio uno degli ambiti in cui si può fare una un grosso diciamo miglioramento nei prossimi nei prossimi anni quindi concludendo abbiamo bisogno di schemi di previsione che sappiano quantificare l'incertezza e soprattutto che sappiano quantificare gli impatti poi l'attività scientifica arriva allo schema di previsione fa le previsioni in realtà le previsioni dovrebbero fare addirittura dei centri operativi ma in qualche modo collegati con i centri di ricerca e poi interviene quello di cui si discuteva prima col professor Giovannini cioè cosa fare di queste previsioni attenzione questo è un problema grossissimo che purtroppo spesso viene trascurato quello che viene chiamato in gergo l'ultimo miglio cioè possiamo fare delle cose meravigliose faccio un esempio per l'alluvione che è un po' più semplice supponiamo di fare una previsione meravigliosa perché perfetta di un alluvione mandiamo l'informativa alle protezioni civili locali però capita di sabato sera il comune è chiuso e la meia rimane lì ecco cioè come fare a collegare la parte scientifica con la parte operativa a livello nazionale la protezione civile italiana è ottima e ha lavorato tantissimo sulle scale meteorologiche proprio per diciamo ridurre questo iato fra la previsione e l'operatività a livello climatico stiamo iniziando adesso e si sta cominciando proprio nell'ambito della climatologia operativa grazie professor provenzale grazie molto se ci sono delle domande alzate la mano e insomma verrò lì col microfono verrò io o qualcuno forse io mi piace molto anche no volevo chiederle c'è un tema che sta emergendo nel festival iniziato ieri sera e anche ieri sera parlavamo proprio con il professor Valentini qua si parlava appunto delle proiezioni per quanto riguarda ad esempio i bacini idrici la necessità per l'agricoltura perché ovviamente è probabilmente il settore che consuma più acqua di riuscire a ottimizzare questi processi e questo è un tema ma l'altro tema era che a un certo punto la scienza si trova e dice io quello che potevo dire te l'ho detto la domanda è siete avete creato o state creando degli strumenti molto interessanti perfetti e riformativi ma siete coinvolti anche per quanto riguarda la soluzione o no? Allora si è più indietro su questo ovviamente però sì nel senso che si è riformato esisteva ma poi è rimasto quiescente un viene chiamato un tavolo diciamo un gruppo di climatologia operativa sotto legida proprio di Copernicus in Italia per raccogliere ed è un documento che ormai è disponibile le informazioni concrete su come far arrivare le informazioni le proiezioni le previsioni all'utente in particolare alcune ARPA sono molto attive in questo non tutte però diverse sì o altri enti ISPRA per esempio ISPRA nazionale insomma non GERSI ed è necessario cioè questo è il punto di contatto fra l'attività scientifica e quei centri che dicevo che dovrebbero essere in qualche modo collegati da una parte all'attività scientifica e dall'altra all'utente ma arrivare a fare l'app per mandare le informazioni delle previsioni stagionali già ci sono oltre quelle meteorologiche che ci sono ma all'utente finale però bisogna identificare chi è l'utente cioè non si può fare una cosa che funziona per tutti quindi bisogna identificare se l'utente è chi si occupa di agricoltura oppure se la protezione civile oppure però diciamo è in corso funzionerà speriamo non lo so se non ci sono domande io continuo quindi continuo c'è una domanda ok allora grazie non lasciare il microfono grazie buonasera la mia domanda è questa visto che abbiamo parlato nella prima frase che ha detto c'è un contributo umano è un contributo naturale è possibile dare un numero una quantificazione di questo per esempio con una percentuale non so da 1 da 0 a 100 perché è un dato che quando lo cerco si fa molta fatica a trovare questo genere di informazione a percepire questo e quando c'è spesso si trova di tutto molto spesso anche a seconda dell'indirizzo magari politico ideologico che a volte c'è dietro certi articoli quindi è possibile rispondere a questo e lei parlava anche molto di incertezza immagino che ci sia un bel po' di incertezza anche in questa quindi mi dia una allora nell'ultimo report IPCC ecco un'altra cosa che vorrei dire IPCC non è né profetico né fa ricerca ma raccoglie soltanto le cose pubblicate che possono essere sbagliate voglio dire non è che tutto quello che viene pubblicato sia giusto però raccoglie ciò che viene pubblicato e ciò che viene pubblicato in generale viene valutato da altri a volte viene valutato ripeto sbagliando perché l'errore fa parte non solo della scienza ma anche dell'attività umana allora lì vediamo che se noi guardiamo gli ultimi 200 anni 300 anni abbiamo delle offillazioni e poi un aumento abbastanza netto della temperatura allora queste offillazioni in buona parte non tutte sono ascrivibili a effetti naturali quell'aumento invece no è come si come si è mostrato non dimostrato se diciamo quei modelli noi possiamo giocare mentre con la realtà lo facciamo ma non dovremmo se da un modello io tolgo l'aumento di emissioni di gas serra vedo ho solo la parte naturale e vedo che fa certe cose se metto solo i gas serra e non le varie vedo che fa questo aumento e quindi in qualche modo è stato smontato quindi direi l'aumento degli ultimi 50 anni più o meno è essenzialmente dovuto all'aumento di CO2 mentre le oscillazioni no in realtà non tutte le oscillazioni perché lo stesso aumento di temperatura dovuto ai gas serra non è lineare ma è un po' a salti perché il sistema climatico è molto complicato e l'oceano in particolare assorbe molta calore e poi lo rilascia e quindi è un po' a salti perché ci sono momenti c'è stato per esempio un periodo di 10 anni chiamato lo iato in cui la temperatura sembrava non aumentava ecco vedete perché l'oceano stava assorbendo tantissimo calore poi dopo di che l'oceano è aumentato subito tantissimo quindi direi questa mi sembra la risposta non è un numero ma si vede ripeto ritorno l'aumento di temperatura che vediamo oggi cioè circa un grado rispetto al pre-industriale è piccolo rispetto ai cambiamenti di temperatura che sono avvenuti nel passato remoto della terra però ci sono due però primo avviene in un mondo sovrappopolato con tantissime infrastrutture fisse cioè un milione di cacciatori raccoglitori sparsi sul globo possono sopravvivere a qualunque aumento di temperatura basta che non diventi come Venere le infrastrutture fisse che abbiamo noi cioè l'intera società rischia di collassare per un aumento quindi questo è il problema seconda cosa invece importante è un aumento molto rapido 55 milioni di anni fa c'è stato un evento chiamato PTM Paleocinio Sin Thermal Maximum in cui la temperatura se guardiamo sul record geologico fa pac così è salito così cioè è veramente fortissimo probabilmente dovuto a rilasci enormi di metano e di anidride carbonica per vari accidenti che sono successi però se uno va a vedere sulla scala di tempo l'aumento è comunque un decimo la velocità dell'aumento rispetto a quello attuale sperabilmente il nostro non durerà per i millenni che è durato quello là perché se no siamo nei guai però ecco quindi sono questi due aspetti il fatto che si inserisce in un mondo sovrappopolato è il fatto che è un aumento molto rapido direi che direi ancora un'altra cosa che il cambiamento climatico attuale oltre ai problemi diretti si mescola interagisce con tutta una serie di altri problemi perdita di biodiversità perdita di superficie no? cambiamento nell'uso del territorio specie invasive eccetera e quindi amplifica altri altri problemi che ci sono infatti bisognerebbe e così si sta facendo guardare non tanto al cambiamento climatico da solo ma al cambiamento globale io oggi parlavo di climatologia operativa ma se uno vuole andare invece su proiezioni più lungo termine deve guardare al sistema nel suo complesso grazie ancora una domanda mi ricollego alla sua frase in risposta al signore in cui dice che non bisognerebbe giocare con la realtà ma con i modelli lei parlava prima della problematica di siccità di anche bacini idrici di incendi allora le faccio una domanda un po' forse un po' provocatoria qualche tempo fa avevo letto che in Cina forse tramite tecniche di cui non sono assolutamente esperta volevano manipolare in qualche modo il meteo per far piovere quindi la mia domanda è cosa ne pensarei e che effetti secondo lei potrebbe avere sia sul meteo sia sul clima allora andiamo nell'ambito della cosiddetta geoingegneria o ingegneria climatica che è un ambito molto vasto allora le tecniche per far piovere sono in realtà antiche nel senso che quando sparavano i cannoni nelle campagne per mandare molti nuclei di aggregazione per evitare la grandine oppure inseminavano le nuvole il meccanismo di formazione della precipitazione che devono esserci dei nuclei di aggregazione che sono in genere dei cristallini o delle impurità intorno a cui si forma la goccia di pioggia però se sono troppi si formano delle goccioline molto piccole per cui va bene metterne tante per non fare per esempio la grandine se sono troppo pochi non si formano e quindi diciamo in questo ambito si si poi l'ho fatta un po' semplice però in questo ambito si situano questi tentativi che io sappia sono stati fatti in Cina ma anche in Europa anche in Israele non ci sono state finora dei risultati completamente convincenti cioè non si è molto riusciti però questo è più a livello meteorologico che non climatico andando invece a livello climatico ci sono altre tecniche per esempio è andato di moda per un certo periodo lo sparare degli aerosol chiari diciamo silicei in alta atmosfera in stratosfera perché così possono riflettere la luce solare e questa cosa al di là del fatto che è probabilmente non sostenibile da un punto di vista economico perché questi dopo un po' cadono quindi bisogna continuare a sperarli ci sono state una serie di simulazioni che hanno mostrato che può devastare completamente il ciclo idrologico cioè portare cambiare molto siccità e precipitazioni in ampie regioni del globo per cui che io sappia anche questo continua a essere un po' sotto traccia ma non si è mai sviluppato quello che io credo è l'aspetto più interessante ma anche questo molto delicato è quello dello stoccaggio della CO2 non tanto ci sono due fasi cattura e stoccaggio ora la cattura è molto complicata perché non lo è se uno prende direttamente le emissioni dall'industria e quindi catturare dell'atmosfera non è così facile da fare ma invece prendere la ciminiera e farla andare e ci sono stati molti tentativi di stoccaggio di CO2 che finora o hanno funzionato poco oppure se funzionano per esempio in Islanda ce ne sono diversi però costano tantissimo e lo stoccaggio attualmente considerato più interessante non è tanto quello di mettere la CO2 sotto una una roccia impermeabile perché prima o poi viene su ma è quello di far fare reazioni chimiche o con le serpentiniti o con o con altre tipologie di rocce per cui rimane catturata lì diciamo per sempre no ma per un po' più di tempo però è molto costoso quindi adesso il problema è effettivamente sulla cosiddetto CCS cioè carbon capture in storage c'è discussione perché da una parte diciamo è un po' invasivo dall'altra la transizione a energie a basso emissione di CO2 è molto più lenta di quello che si prevedeva e in più ci sono industrie come i cementifici che emettono comunque CO2 nella produzione del cemento quindi il cambiamento industriale sperabilmente ci sarà ma non è che si fa in pochi giorni e quindi l'idea era di questo però è un ambito attivo credo che sia un po' l'unico a mio parere in cui ha senso investigare non abbiamo più tempo però una cosa vorrei chiedere alla telegrafica ha parlato prima il professor Giovannini dell'importanza di lavorare sulle generazioni diciamo più vecchie però quello che richiede le geoscienze su di 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 climatologia insomma dal punto di vista della formazione rappresenta una buona opportunità oggi cioè è un è un settore dove lo studio in quel settore adesso per un ragazzo che magari esce dalle superiori e vuole iniziare la formazione è un momento importante vuoi perché cambiano gli strumenti per la digitalizzazione eccetera eccetera svilupparla ma anche applicarla all'operatività con tutti i problemi connessi vi faccio un esempio c'è un'idea di gli acciai si stanno ritirando no? e quindi cosa vuol dire? vabbè a parte il fatto che ci dispiace bla 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 ma vuol dire che ci sono meno risorse idriche in estate perché tipicamente la pioggia scorre via più o meno subito la neve si fonde un po' più avanti in primavera i ghiacciai ancora un po' più avanti per alcune valli alpine l'acqua che viene dal ghiacciaio e dalla neve è molto importante allora in Svizzera in particolare c'è stata l'idea e c'è tuttora di sostituire gli acciai con una serie di bacini artificiali idrici che possano sia dare l'acqua durante l'estate sia usare l'acqua per fare la neve durante l'inverno per andare a sciare e ci piace? no? eh eh parliamone cioè nel senso che si va fatalmente a discutere se abbia senso intervenire abbastanza pesantemente sull'ambiente per risolvere un problema al limite senza crearne un altro ma la natura non è più la natura incontaminata che peraltro sulle Alpi non è mai stata da 5.000 anni a questa parte e quindi ecco che è importante sviluppare la parte tecnica ma anche la capacità di dialogare è importante secondo me il dialogo perché c'è su di noi ha un'opinione sua personale che è rispettabile qualunque sia ma soltanto nel dialogo con diciamo opinioni diverse e interessi diversi si riesce ad arrivare a un compromesso sensato questo è cruciale altrimenti non ringrazio il professor Antenello Provenzale grazie molte grazie noi ci lasciamo per adesso un momento di pausa ma alle 21 il Food and Science Festival riprende al Teatro Scientifico Bibiena con Antonio Pascale per parlare di agricoltura di ieri di oggi di domani ma ci sarà anche un bel po' di musica quindi a più tardi buon appetito a più tardi a più tardi